Voi siete messati, ma soprattutto quelli che fanno l'errore che nell'era dei social si fa di andare a recuperare il passato, di andare a rivedere amici che si recuperano dopo decenni con i temibili gruppi WhatsApp delle medie, queste cose qua, in cui si cerca sempre di organizzare le feste che si ritardano di anno in anno perché nessuno poi vuole farle. Voi come vi ponete nei confronti del recupero del passato? Posso rispondere subito su questa cosa? Che non era una grande classe, cioè la mia classe del liceo non era una grandissima classe di simpaticoni, cioè non ho una memoria di super simpatici, invece adesso che abbiamo un gruppo WhatsApp che si chiama Siamo Ancora in Tempo, poi adesso è cambiato, è diventato un altro nome, Meduse Gialle, perché hanno scoperto che le Meduse Gialle vivono all'infinito, vanno avanti e indietro nel tempo. No, è vero, è vero, si chiama così. Poi ne parliamo. Adesso che abbiamo questo gruppo WhatsApp io ho scoperto le cose pazzesche, cioè ci sono dei personaggi, cioè dei miei amici del liceo che sono una simpatia travolgente. Che forse sono dei servizi segreti. Che cresce, forse sono dei servizi segreti, a parte che ce n'è una di mia compagna di classe che fa il personaggio, io l'ho già annunciato, guarda che io faccio Silvana perché fa il mio mestiere, cioè è una pediatra che lavora in Afghanistan, cioè lei è infermiere in realtà che lavora con, però che è stata in Afghanistan con i bambini eccetera, quindi ho già annunciato nel gruppo WhatsApp dei miei compagni di scuola, andatelo a vedere perché io faccio Silvana praticamente. Quindi io ho un rapporto bello invece con il recupero, perché secondo me da grande scopri molto di più dei tuoi compagni di scuola di quando eri al liceo, perché lì sei tutti dentro un... Forse la paura di chi era popolare all'epoca, no? Cioè il cavolgimento dei ruoti forse, no? No, non lo so, secondo me lì dentro la classe c'è un po'... ci sono un po' di... è un po' cattiva la scuola da questo punto di vista. Come la morte, tipo. Sì, anch'io. No, io no, vengo con te. Nel film forse è l'unica... cioè è il vero e proprio escamotage drammaturgico per mandare avanti tutto, grazie a Tamara. A Tamara. C'è sempre una Tamara poi, no? Hai noi, c'è sempre una Tamara in agguato, però Tamara povera, lo vedi, guarda, è dalla parte dei vessati, comunque anche se lei è così esuberante, travolgente, è una che soccombe, come tutti, ha un arrogantissimo Roia, che è un detestabile businessman che non è piacevole incontrare per Tamara. E invece per risponderti alla domanda di prima, no, io ho qualche, diciamo, qualche testa di serie che mi porta appresso nel passato, o qualche amica storica e rocciosa, ma per il resto non risponde neanche alle chat delle classi e dei bambini, proprio non mettetemi nelle chat, perché Claudia ha abbandonato una delle frasi più facili che tu possa leggere. L'ansia da chat, anche la che poi non rispondi. No, perché francamente questo... Continua a giornare. Sanno già che cosa hai fatto, sanno che hai letto. Sì, ma conviene dirlo subito che... Io e Marchione siamo due bestie nere, quindi non ci mettete nelle chat. Beh, è giusto fare la figura così in mezzo. Conviene dirlo subito. Però parlando di vessati, poi in realtà, voi rappresentate anche la cosa più complicata. Cioè in una commedia tante volte si fa il tifo per chi dà una testata, non per chi la riceve. Quindi non è facile in una commedia comunque far provare empatia al pubblico per chi è vessato. Innanzitutto abbiamo capito che tu sei dalla parte nostra. Grazie. Tu hai empatizzato con i vessati. Beh, un pochino sì. Beh, sì. Sì, sì, vabbè. Perché sono scritti bene questi personaggi, parliamoci chiaro. Sono scritti molto bene. E quindi tu in realtà partecipi a uno spettacolo e quasi non ti schieri in realtà, probabilmente. Io da spettatrice non mi sono schierata, mi sono goduta proprio tutto il meccanismo, il percorso. Però aspettavo un riscatto. In qualche modo ti aspetti. Perché certe cose non ci piacciono, è inutile. Le accettiamo... Continuo a toccarti, perdonami. Questo è il segno di grande maleducazione. Però le accettiamo, ma non va bene. Non ci piace e quindi comunque quando partecipiamo da fuori a certe cose stiamo dalla parte del bene, in teoria. Vai, vai. Ma io per esempio trovo... Non c'entra niente col film, però... Molto bene, sentiamo. Però trovo che... Parliamo di Medusa e Gialle. No, che però ci siano tantissime forme di arroganza, invasione di campo, violenza, eccetera. Ma io non trovo che toccare una persona sia invadente. Siccome mi è capitato in un tram di entrare e dire signora, scusi, si può spostare dall'ingresso? Perché dall'uscita? Perché noi dovremmo salire, no? Ma devo scendere fra sette fermate. E ci siamo messi a discutere dicendo sì, ma se si sposta magari... E mi sono permessa di fare questo. Tu non puoi capire che cosa si è scatenato. Lei cosa? Lei mi ha toccato. Allora, il discorso qual è? Che poi raccontandola questa cosa lei mi ha divorato proprio e poi io rimango sempre spiazzata perché poi c'è chi ha proprio la battuta pronta io non ce l'ho quella cosa lì e quindi lei mi ha detto e quando lo raccontavo che effettivamente toccare... Ma scherzi, ma toccare assolutamente se l'avessi fatto in America... Ma noi italiani siamo molto tocconi. Ma io trovo che toccare sia l'ultima delle cose violente che possiamo considerare. Sì, le testate sono peggio. Le testate sono peggio. Cioè, l'invadenza fisica a te dà fastidio questo, per esempio? No, ma a me fa piacere essere qui in mezzo. Non si pone. Cioè, ti dà fastidio questa cosa che stiamo facendo di Claudio? Tutti sono allenatori di calcio, tra l'altro. Tu rappresenti anche il povero loro comune. Certo. Siamo in un paese in cui tutti siamo i cittadini della nazionale e tutti sappiamo quale sarebbe stata la formazione migliore, insomma. E non solo. Inizia anche i primi ministri, insomma, siamo tutti che ne sappiamo più di tutti. Questo film penso che arriverà moltissimo, tantissimo, spero, perché quello che dicevi prima tu rispetto a questi personaggi vessati oppure vessatori dipende dal giorno, ma bene o male è successo a tutti di essere o da una parte o da un'altra a vari gradi, naturalmente, di violenza. Sono molto educata io, come ti permette. Però spero che questi personaggi vengano visti da più italiani possibili, proprio, perché potrebbe essere buono. E forse anche può reagire alla suefazione. C'è un po' una patina di... Per cui per quieto vivere talvolta, no? Si lascia stare. Si lascia stare, ma non faccio quello, non faccio quell'altro. No, ma infatti, secondo me, la cosa più importante è che i vessatori è giusto che siano così sopra le righe in questo film, perché possono essere veramente uno specchio per i presuntuosi, gli arroganti, i violenti, gli ignoranti che fanno dell'aggressività ormai un sostituto dell'intelligenza e del dialogo. Mi auguro che succeda con questo film.